Ciao ragazze, come state? Spero bene. Allora, un nuovo video-vlog. Questa volta mi trovate fuori casa perché siamo vicino. Allora, un 60 in via Galatea, non so se si vede. Via Galatea e dietro, davanti a me, di fronte a me, c'è un monna, ho il carrellino e niente. Ho dovuto togliere il cuore perché sennò non mi senti barata. Poi guardare i piedi, non devi evitare di metter i piedi, non ti dico dove. Allora, adesso sto correndo, sto facendo la spesa. E niente, quindi devo andare a prendere un po' di cosina. E quindi nulla. Allora, stamattina mi sono trattata con un po' di correttore. Poi ho messo un po' di cipria della Rimmel Warm Beige 006. Dopodiché ho messo un po' di lipgloss, infine. Un po' di bronzer, come fare il contouring. Non so quasi se si vede. Che non si vede una mazza, ma vabbè. E avrebbe finito le sopracciglia. Già. E nulla. Dopodiché basta. Non ho fatto altro niente. Un po' di scignonne. Non so se si vede. Se si percepisce. Non so più parlare, ma vabbè dettagli. E niente. Quindi oggi fa un caldo. Come dice Federico Fashion Style. Oggi fa un caldo fotonico a mode. Niente. Quindi che dire. Adesso sto correndo a sapere il perfume. Appunto vi ripetisco. E a prendere il vidal. Quattro vidal. C'ho anche qua il... Come dire. Il biglietto della lista della spesa. E una a comicellare. Sì. Perché mi serve. Per struccare il viso. Perché ne ho una. Ma c'è la metà. E mi serve per struccarmi. Scusate se guardo per terra. Se guardo verso il basso. Ma voglio guardare i miei piedi. Perché non voglio inciampare. E ne tanto meno beccarmi qualche... Mertina. Quindi vabbè. No comment. Già. E nulla. Qua vedete dove sono. Allora. Intanto tiro su col naso. Perché. Sono mezza fredata. Lo so che non è bello da sentire. Ma. Questo è. E niente. Solo sto andando a sapere il perfume. E. Non compro null'altro. Perché tanto. Mi serve. Che comprare altro niente. Se non che. Il quattro vitale. La policellare della Garnier. Quella skin active. Cioè. Quella col tappo rosa. E. Sempre se la trovo. Non è detto che la trovo. Cani che baiono. Vabbè. Anche loro vogliono partecipare agli video. Vabbè. Vabbè. Eccolo lì. Niente. Bene ragazze. Allora. Il video. Un sacco. Finisce qui. Perché poi devo entrare anche a. A. A Simpli. Come si come lui. No. Si sta a Simpli. O per te. No. Despar. Despar. Mi son girata un attimo dietro. Per guardare. Sì. Ma per la prima volta era a Ocean. Adesso. Adesso. Despar. Simpli. Punto. Simpli. Insomma. Ogni torte ne cambiano una. Vabbè. Bisciò. E. Niente. Vedete. Sapone profumo. Si vede qualcosa. No. Si vede niente. Io non sono capace di fare. Un quadratore. Però vabbè. Ecco qua. Sapone profumo. E niente. Adesso. Io vado. E. E. Stoppo il video. Ci vediamo altrimenti. Ciao ragazze. Allora. Ragazze miei. Riecco. Dunque. Se lo so. Mi vedete tutta sudata. Perché sono appena rientrata dalla spesa. Sono stata. In. In. Un negozio market. In un mini market. Di palau. Poi sono andata. Al. Sapone profumo. Come vi ho appena detto. Dopodichè. Siamo andata. Eh. Appunto. Al. Despar. A prendere roba. Insomma. Poca roba. Frutta. Verdura. Pasta. E. Basta così. E. Dopodichè. Capirete bene. Il sudore. Che ho fatto. Avanti e indietro. In giro. Per il mio paesino. Già. E. Niente. Quindi. Allora. Adesso. Faccio vedere. I miei outfit. Che è così. Vedete. Faccio vedere. Di velocità. Perché. Non voglio rigirare la cam. Ecco qua. Questo è il mio outfit. E. Il mio kimono. E. È appeso. Il corridoio. Quindi. Non mi va di farmi vedere. Tanto. L'avrete già visto. In una video a parte. Eh. Se riesco. Vi metto il link. Nelle schede. Di informazione. Che sono. O a sinistra. O a destra. Appaiono. Da una parte. All'altra. Oppure. Ve li metto nell'info box. Comunque. Girando. Per il mio canale. Le troverete. Queste. Informazioni. Del video. Che ogni modo. Vi pubblico. Del mio kimono. O non kimono. Che sia. Vabbè. Niente. A parte queste pregnacce. Ragazzi. Sono contenta. Che finalmente. Sto tornando a fare il video. Questo. Lo devo ripubblicare. Anzi. No. Devo pubblicare. Vabbè. Oggi. Non so parlare. Lasciate. Lasciate perdere. Ieri. Ho appena pubblicato. Il video. Delle mie scorte beauty. Che sta qua. Sotto. Dove. Sì. Questo qua. Vedete. Questo. Dove sta indicando. Vabbè. Sì. Ci siamo capiti. Comunque. È lì. E. Grazie ancora. Per l'affetto. Che mi date. Grazie ancora. Per. Perché mi sostenete. In tante. Grazie mille. Di cuore. Un corassone. Così. E. Non faccio video. Su questa. La spesa. Per oggi. Perché. Sono troppo stanca. Ragazzi. Non ce la posso fare. Ma. Appena posso. Ve lo farò. Non. Adesso. Un altro momento. E. Intanto. Mi vado a stoccare. Perché. Mi sta bruciando. Tantissimo. Gli occhi. Voi. Non so. Se. Mi vedete. Bene. O male. Un secondo. Così. Non li faccio cadere. Ok. Allora. Tolgo. Questo. Tolgo. Questo. Ehm. Ciuffino. Che c'ho qua. Mi faccio vedere bene. Vedete. Se voi direte. Mamma mia. Quanto si è sudata. Eh. Raga. È normale. C'è caldo. Se suda. Poi. Figuriamoci. Prima quando eravamo con le mascherine. Quello ricordate. Che non se lo ricorda. E. Quindi. Anche se mi trucco. Non me ne può fregare da meno. Anche se sudo. Pazienza. Ma almeno. Non sono. Un cadavere. Che c'era per strada. Quindi. Eccomi qua. Tutto. Il mio sudore. Splenge. Il frignaccio. Che dico. Però è la verità. Ragazza. Mi piace truccarmi. Anche se sudo. Chissana. L'importante è stare bene. Con se stessi. Oltre che con gli altri. Ehm. Vabbè. Ragazzi. Io adesso vi lascio. Ehm. Era un breve video vlog. Questo. Ora mi rimetto gli occhiali. Mi vado a struccare. Ehm. Ovviamente. Mi strucco. Con l'acqua micellare. Che. Ho incominciato. E che sto per terminare. Cioè. Quella che sto per terminare. Perché si fa così. E poi. Nulla. Mi vado a mettere il collirio. Per gli occhi. Che ne ha necessità. Perché altrimenti gli occhi. Diventano rossi. Come un peperone. Non è caso. E. E. Vi vado altri video musicali. Perché il video vostro. Li guardo la sera. Mentre i video musicali. Li guardo al mattino. Si. Devo essere onesta con voi. Non troppo. Ma. Un po' si. A volte guardo i video musicali. La sera. A volte. Li guardo la mattina. In questo caso. Li voglio guardare la mattina. I video musicali. Poi. Se mi viene. Lo spiripizzolo. Guardarli. Adesso. Non lo so. Vediamo. Decido il momento. Quando vuoi montare i video. Se guardare. I vostri video. O meno. Ok. Non ve la prendete a male. Come dite voi. Voi avete una vostra vita. Anche io. La mia. Ma. Potessi che vi guarda. Ok. E niente. A presto ragazze. Ah. Io vi dimentico sempre. Se vi va. Mettete un bel like. Di supporto. Un commentino. Attivate la campanella. Se vi iscriverete. Iscrivete. Ehm. Ciao. A presto. Un bacio. Alla prossima. Ciao. Ciao.